Nardoni svegliati e mettiti a capo della nostra protesta, se non te la senti faremo da soli. Questo l'appello di un folto gruppo di agricoltori ionici, in particolare di quelli beffati continuamente dalle circostanze calamitose e dal mercato senza regole certe. Basti pensare, dicono che il 30% della produzione di uva da tavola dell'arco ionico è rimasta invenduta sulle piante e sta ammuffendo. Qualcuno l'aveva anche venduta a buon prezzo al momento della fioritura percependo la caparra. Poi i compratori, visti i prezzi e l'andamento del mercato, esaurita la somma della caparra, hanno dato il ben servito ai produttori. L'uva non mi serve più, hanno detto, scusate ma potete tenervela perché costa troppo rispetto a quella di importazione. E sulle nostre tavole arriva l'uva spagnola o brasiliana oppure quella greca. Tutti i paesi dove i costi di produzione sono almeno a metà rispetto a quelli italiani. E la storia dell'uva si sta ripetendo con i mandarini e con gli ortaggi. Tutti i prodotti destinati ad essere venduti sotto costo, rimettendoci, o a rimanere sulle piante a marcire per limitare i danni economici. Anche in questi casi la concorrenza estera stronca i produttori locali. L'enogastronomia è un'eccellenza pugliese, dicono gli agricoltori e l'assessore Nardoni lo ripete in continuazione. Ma venga tra noi a vedere la base della filiera, disperata. E lui, il rappresentante nazionale delle regioni, faccia qualcosa, ribadiscono i produttori, o faremo a modo nostro.